benvenuti in un nuovo video di quadricottero news il problema dei divieti di sorvolo non emessi da enac è in crescita e aggiungo purtroppo recentemente ne ho parlato in diversi video sul canale qua ad esempio siamo ad ostia antica dove è stato vietato a un mio iscritto andrea ne parlerò tra poco di volare nonostante la zona sia permessa su di flight permessa ad altezza limitata perché è una zona atm 09 arancione quindi limite di altezza 25 metri perché vicino ci sono le tre piste dell'aeroporto di fiumicino quando si vola nelle vicinanze di un aeroporto anche se la zona è permessa dobbiamo fare attenzione però se la zona è permessa non vedo il motivo per cui ci debba essere vietata ed è il caso di ostia antica su di flight è indicata come zona arancione quindi anche le open category possono volare fino a 25 metri di altezza ma il problema è che ci sono questi cartelli avvisi che hanno senso secondo me in vicinanza degli aeroporti hanno assolutamente senso quando si vola vicino agli aeroporti dobbiamo fare attenzione a rispettare il regolamento in questo caso però i cartelli con questi avvisi sono posti in una zona dove ed i flight segna 25 metri di altezza limitata e quindi in questo caso non dovrebbero esserci probabilmente ci sono perché fanno riferimento al vecchio regolamento quando ai droni era vietato volare all'interno delle ATZ che sono queste ma con l'avvento del regolamento europeo droni emac ha deciso di istituire le zone geografiche o s a protezione degli aeroporti atm 09 che per l'aeroporto di fiumicino sono queste rettangolari non sono più circolari e quindi nella zona dove intendeva volare andrea cioè all'ingresso degli scavi di ostia antica e la zona è premessa fino a 25 metri di altezza e così andrea ha scritto ad enac per chiarimenti facendo ciò che in altri video consigliato di fare quando vediamo che c'è una discrepanza tra ciò che è pubblicato su di flight rispetto alla realtà sul territorio dobbiamo cercare di agire per far sentire la nostra voce andrea ha scritto ad enac facendo presente la situazione come possiamo leggere che nella zona degli scavi di ostia antica ci sono questi cartelli che non risultano dal portale di flight dove invece è segnalata zona geografica us con restrizioni sopra i 25 metri ma libera al di sotto dei 25 metri come ho detto anche per chi vuole in open category in questi casi come dobbiamo comportarci chiede andrea fanno fede le mappe nel formato digitale unico comune e quindi il portale di flight così come dovrebbe esserci stato richiesto dalla comunità europea oppure fa fede il ministero della cultura l'aeroporto di fiumicino il comune di roma o chiunque metta un cartello senza riferimenti normativi e giustamente poi andrea chiede cosa sarebbe successo se non avendo visto il cartello basandosi su di fly avesse effettuato il volo da una zona limitrofa inoltre andrea fa presente che ultimamente in vista dell'estate si stanno moltiplicando le ordinanze comunali dei sindaci che vietano il sorvolo delle spiagge di vieti che non sono riportati su di flight e quindi chiede come come fa ad esempio un turista straniero a sapere che c'è l'ordinanza del sindaco che vieta di sorvolare le spiagge ed ecco la risposta di enac che dà ragione a noi dronisti e cioè che per le zone geografiche us fa fede il regolamento europeo 947 e pertanto fa fede di flight se la no flight zone non è riportata su di flight su tale zone è possibile operare in conformità e requisiti del regolamento 947 e oasite aggiungo io e poi aggiunge riguardo l'ordinanza del comune di roma le confermiamo che anche questa non ha valore quella del divieto sorvolo spiagge le motivazioni sono riportate nella lettera allegata inviata all'associazione nazionale comuni italiani quindi anci nel 2018 e in effetti nel 2018 anche prima del regolamento europeo c'erano questi problemi c'erano questi divieti locali non presenti in ip e allora enac che aveva scritto appunto all'anci il vice direttore generale di allora alessandro cardi aveva scritto questa comunicazione all'anci dove dettaglia il fatto che è enac l'unico soggetto incaricato a regolare i divieti di sorvolo e gli spazi aerei in pratica la validità dell'articolo 793 del codice della navigazione dove è scritto che enac può evitare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza quando ricorrono motivi militari di sicurezza o di ordine pubblico l'enac su richiesta dalla competente amministrazione vede sorvolo su determinate zone del territorio nazionale in pratica dice che il comune se il comune vuole vietare il sorvolo delle spiagge deve fare richiesta ad enac seguendo la procedura descritta nella relativa circolare e una volta approvata sarà effettivamente valida visibile da tutti gli utenti dello spazio aereo tramite notam e ip ma questa comunicazione è stata fatta prima del regolamento europeo oggi abbiamo deflight e la situazione per chi usa i droni è più semplice dal punto di vista della consultazione perché per regolamento come avevo spiegato anche in questo video svolta epocale fa fede quello che è pubblicato su deflight come ha confermato lo spazio aereo ad andrea e come anche aveva confermato la direzione centrale operatività e standard e tecnici in una comunicazione che ho mostrato appunto nel video svolta epocale dove confermava che è necessario consultare il sito web deflight inoltre pochi giorni fa enac ha aggiornato la pagina informativa sul proprio sito voli con droni oas limitazioni e riserve dello spazio aereo dove spiega che il pilota del drone deve avere le relative competenze legacy patentino il cosiddetto patentino se pesa più di 249 grammi che sul drone ci deve essere il qr code registrazione operatore oas che si fa su deflight quindi sempre lo stesso codice operatore su tutti i droni che detiene l'operatore poi sempre l'operatore perché è l'operatore che deve essere assicurato e non il drone e non nemmeno il pilota operatore pilota per regolamento sono due figure distinte che possono anche coincidere con la stessa persona però ci sono queste due distinzioni nel regolamento quindi un operatore può far pilotare il drone a un pilota qualsiasi che abbia le competenze ma sul drone ci deve essere il qr code dell'operatore non del pilota insomma operatore può essere anche mio nonno che non è in grado di pilotare lui è l'operatore del drone quindi il proprietario del drone ha il qr code sul drone ha l'assicurazione e incarica un pilota con i relativi requisiti di pilotare il drone ed è tutto legale e poi cosa dice enac enac dice che l'operatore deve verificare la compatibilità dello spazio aereo nella zona in cui intende operare e qua dice che prima di ogni singolo volo l'operatore us deve prendere visione di quanto previsto dalla circolare atm 09 a già una cosa diversa rispetto alle risposte precedenti che abbiamo ottenuto da enac dove si parlava soltanto di deflight però conferma che deflight è riferimento che l'italia ha scelto per le zone geografiche us previste dal regolamento 947 e poi conferma che nelle zone rosse aeroportuali è vietato operare con le open category non si può nemmeno richiedere il premesso mentre nelle altre zone rosse è possibile richiedere di poter operare anche in open category chiedendo il permesso a chi ha chiesto l'istituzione dell'area rossa al gestore dell'area rossa ad esempio in questa zona rossa si può richiedere il permesso anche in open category a chi ha chiesto l'istituzione di questa area per conoscere chi ha chiesto l'istituzione di questa area bisogna andare a consultare le ip italia enac però dice che potrebbero esserci delle zone rosse non aeroportuali dove quindi potrebbe essere possibile richiedere il permesso per le open category ma che però ci potrebbe essere il requisito dello svolgimento di lavoro aereo nel senso se fai lavoro aereo puoi richiedere il permesso se non fai lavoro aereo non te lo diamo questa però è anche una conferma che anche in open category si può svolgere lavoro aereo non ci sono distinzioni tra volo ricreativo e lavoro aereo nel regolamento europeo ci sono distinzioni di categoria quindi open specific certified con tutte e tre le categorie ci si può divertire oppure svolgere lavoro aereo quindi per una zona rossa non aeroportuale il gestore non dovrebbe discriminare tra specifiche open category ma può discriminare tra chi svolgere lavoro aereo open category o specifiche rispetto a chi fa volo ricreativo in conclusione i divieti devono essere riportati su di flight purtroppo in questo periodo ci sono tante incoerenze dovute ai vieti dei sindaci o comunque delle amministrazioni locali che non hanno non sono passate da enac in questi casi in caso di ordinanza sindacale comunque dobbiamo rispettare l'ordinanza anche se non è corretta la dobbiamo impugnare ma dobbiamo rispettare non possiamo dire per me non è valida volo lo stesso perché andiamo incontro a conseguenze anche legali dove poi ci dovremmo difendere magari ne usciremo probabilmente ne usciremo vincenti però nel frattempo abbiamo avuto fastidi spese e via dicendo quindi impugnare e non violare le ordinanze sindacali ovviamente se ne siamo a conoscenza perché se non siamo a conoscenza che c'è un'ordinanza sindacale noi non possiamo fare nulla dobbiamo rispettare di flight e a quel punto saremo costretti a difenderci nel sedi opportune in caso di sanzioni però come stiamo vedendo enac e dalla nostra parte conferma quanto andiamo sostenendo da tempo e quindi la speranza è che col tempo le cose si aggiustino e che queste informazioni vengano diffuse sempre più alle amministrazioni locali in modo che sappiano che non possono agire in autonomia per quanto riguarda i divieti di sorvolo devono passare da enac come enac ha spiegato a lanci c'è da dire che però anche enac dovrebbe uniformare le sue risposte perché a volte dice dobbiamo consultare di flight la volta dopo dice dobbiamo consultare di flight più atm 09 e magari la volta ancora successiva dice che dobbiamo consultare anche la ip cosa che in realtà non dovremmo fare perché le zone ip che interessano ai droni devono essere trasformate in zone geografiche os e riportate su di flight quindi siamo in miglioramento però dobbiamo avere ancora pazienza perché c'è ancora tanta confusione e quindi in definitiva dobbiamo essere ancora prudenti per non incorrere in sanzioni ingiuste da cui poi ci dobbiamo difendere bene fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa vicenda nel frattempo vi ringrazio per l'attenzione se siete arrivati fino a questo punto e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto grazie a tutti ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news buona continuazione